Famiglie sfrattate, donne e bambini che tra pochi giorni dovranno lasciare la propria abitazione perché impossibilità di appagare la retta mensile. Questa mattina erano davanti a Palazzo Zanca la manifestazione Sfratti Zero, organizzata da alcune associazioni e dai sindacati Cube e Orsa, che hanno aderito ad una mobilitazione che si sta svolgendo in tutto il territorio nazionale, per impedire la pratica dello sfratto e tutelare le famiglie che in difficoltà non sono in grado di affrontare le spese di prima necessità. Sono scesi in piazza con striscioni e megafoni, evidenziando gli obiettivi che intendono raggiungere, anche con prossime iniziative. Accanto a loro l'assessore alle politiche sociali Nino Mantineo, che ha manifestato il sostegno alle proposte evidenziate. Perché la casa è un diritto fondamentale, noi siamo di fronte ad una vera e propria emergenza abitativa, dinanzi alla quale, ha dichiarato, è necessaria una sinergia tra istituzioni e denti. La Regione fornirà 10 milioni di euro, il Comune da parte sua dovrà attivarsi per conoscere quali siano gli immobili disponibili sul suolo municipale. Trattative inoltre verranno abbiate con i titolari di abitazioni che intendono sfrattare gli inquilini perché non versano la retta d'affitto. È giusto però richiamare a rispetto delle regole non soltanto le istituzioni, ha sostenuto Mantineo, ma anche i cittadini, perché ci sono case appartenenti all'Istituto Autonomo Case Popolari, chiuse e divenute residenze estivati chi abita fuori Messina. Un dibattito da rappresentanti delle associazioni, sindacati e l'assessore per discutere l'iter da intraprendere al fine di abolire la pratica dello sfratto. Evidenziate le proposte, Mantineo ha sottolineato la necessità di convocare un tavolo tra assessorati competenti, Istituto Autonomo Case Popolari e parti sociali.